No, no, non continuiamo con gli elenchi perché la gente qui ha già voglia di scatenarsi per cui cominciamo con la prima, chi è la prima? Io direi subito di cominciare con la prima, diciamo che è un'artista internazionale soprattutto perché ha avuto un grandissimo successo all'estero anche se lei è italianissima ci tenete a sapere chi è? È proprio lei, Sabrina Salerno! Grazie! 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 Come vi ho detto entriamo subito nel clima a cui siete abituati voi dell'Arena di Verona